La gerbia Busto Arsizio ha toccato diverse piazze. Noi siamo andati in centro a vedere quella più antica come tradizione sviluppata proprio in piazza San Giovanni mentre nella adiacente piazza Santa Maria veniva bruciato il fantoccio in piazza San Giovanni venivano elargite grandi razioni di polente brusciti. Quindi questa tradizione tipica specialità bustocca che in abbinamento con del caldo Villebure ha reso meno gravosa l'attesa per i numerosi presenti. Tantissima gente in coda già dalle prime ore del pomeriggio, lo potete vedere anche dal video. Sindaco in testa con tantissimi assessori che hanno dato una mano per la buona riuscita di questa manifestazione servendo loro stessi i piatti. È una tradizione che ha sempre molto successo grazie proprio alla tipica specialità bustocca, ai tipici piatti bustocchi che sono sempre molto rinomati, apprezzati dalle numerose persone. Per concludere un grazie anche alla Croce Rossa, ai numerosi volontari che hanno reso possibile questa manifestazione e a tutte le persone di buona volontà che si sono resi disponibili per organizzare questo evento.